208 controlli che hanno permesso di scoprire 194 lavoratori che erano impiegati totalmente in nero. E' quanto emerso nel corso di un piano straordinario di controllo della Guardia di Finanza su tutto il territorio regionale e finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro nero irregolare. L'operazione ha registrato l'esecuzione di ben 208 interventi nel corso dei quali sono stati scoperti 194 lavoratori impiegati totalmente in nero, oltre a 32 lavoratori da cui posizione è risultata irregolare con la conseguente verbalizzazione di complessivi 96 datori di lavoro. Ben 135 invece le posizioni lavorative ancora in fase di definizione per le quali sono necessari ulteriori accertamenti. L'attività ispettiva condotta trasversalmente nei confronti di numerose tipologie di imprese ha evidenziato taluna situazione di particolare rilevanza. In un salottificio dell'area murgiana sono stati scoperti 16 lavoratori in nero impiegati nell'attività di fabbricazione di divani. Nel barese invece è stato scoperto un opificio di proprietà di un'azienda dedita alla fabbricazione di pedane, presso il quale erano impiegati 6 lavoratori in nero. Infine in un panificio della provincia di Foggia sono stati impiegati 4 lavoratori, anch'essi tutti assunti in nero. Dall'inizio dell'anno sono stati effettuati 452 controlli su tutto il territorio regionale, con la scoperta di 362 lavoratori in nero e 584 lavoratori la cui posizione risultava comunque irregolare, 335 i datori di lavoro verbalizzati.